Dopo la fine anticipata del governo di Mario Draghi e lo scioglimento delle Camere, in Italia è partita la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. Con la nuova riforma che ha previsto il taglio dei parlamentari, le regioni porteranno a Roma meno esponenti locali. L'ex presidente della regione, senatore Luciano D'Alfonso, questa mattina a margine di una conferenza stampa per parlare di un provvedimento riguardante la riforma tributaria, ha detto di essere disponibile ad una ricandidatura. Io sono figlio del Novecento, non mi autocandido, aspetto che la comunità politica del mio partito mi dica qual è la cosa giusta da fare, quali sono i ruoli, quali sono le iniziative da assumere. Naturalmente sono pienamente disponibile e comincio da oggi a raccontare quello che ho fatto, quello che farò anche nei prossimi giorni e quello che serve all'Abruzzo e agli abruzzesi. Per D'Alfonso in un periodo non neutro ma difficile il Paese avrebbe ancora avuto bisogno del governo guidato da Mario Draghi. L'Italia aveva ancora bisogno del governo Draghi, della sua competenza, della sua risolutezza, della sua credibilità. Grande parte dell'agibilità finanziaria di cui disponiamo è frutto della sua autorevolezza e credibilità. Ho visto un atteggiamento intermittente in capo ai partiti perché a un certo punto i partiti hanno fatto come i tacchini alcuni partiti, hanno pensato più al proprio interesse, alla propria durata che all'interesse del Paese. Io spero che queste elezioni diano luogo in Italia ad un ristabilimento di classe dirigente credibile, capace di decidere in sede nazionale ed internazionale. Non viviamo un tempo neutro, è un tempo caratterizzato da due rotture di civiltà, la pandemia e la guerra. Non è un gioco governare l'Italia.